Chi ha perso le elezioni non può andare al governo. Noi non possiamo far passare il messaggio che il 4 marzo sia stato uno scherzo. Il PD ha perso, io mi sono dimesso, e 7 italiani su 10 hanno votato o per Salvini o per Di Maio. È così. È la tocca a loro governare. Noi non possiamo con un gioco di palazzo rientrare dalla finestra dopo che gli italiani ci hanno fatto uscire dalla porta. Noi non possiamo pensare dalla mattina alla sera che i giochetti dei camminetti romani valgano più del consenso degli italiani. Abbiamo perso. Non abbiamo paura. Ripartiamo da zero. Ma il governo lo deve fare chi ha vinto. Se ne è capace. Io penso che oggi la palla sia nelle mani del Movimento 5 Stelle e della Lega. Se loro falliranno, loro non siamo stati noi a farli fallire. Se loro non saranno capaci di mettere in pratica le mirabolanti promesse elettorali che hanno fatto, secondo me forse è arrivato il momento per dire che la proposta che aveva fatto il PD di Renzi è stata bocciata, col 41% degli elettori. Però che il sistema in Italia non funzioni, lo vogliamo dire o no? Cioè oggi paradossalmente questa paralisi, questa palude è la dimostrazione più evidente che allora avevamo ragione a dire eliminiamo la parola inciucio dal vocabolario della politica e diamo al cittadino, un grande Roberto Ruffilli diceva il cittadino arbitro, la possibilità di scegliere. Questa possibilità secondo me c'è. Io sarò ottimista. Se loro non riescono a fare il governo, prima di tornare a votare, che facciano una proposta per cambiare la legge elettorale e la riforma istituzionale.